Per caso vi ricordate di Christopher Lambert nei panni di Highlander, lo scozzese immortale che aveva dovuto rinunciare all'amore e vivere nei secoli dei secoli difendendosi dagli attacchi di altri immortali per poi vendicare il suo mentor e la sua donna sconfiggendo il suo ultimo nemico? Bene, dimenticatevelo, perché in questo film, ambientato nel 2024, il buon Lambie è un vecchio incartapecorito e rincoglionito che si addormenta a teatro, che infila monetine nei jukebox, sì, come se nel 2024 ci fossero ancora in giro dei jukebox, e che fa pena solo a guardarlo, ridotto ad una caricatura rinsecchita di se stesso. Inoltre alcuni lo odiano perché ha contribuito a inventare uno scudo solare per proteggere la Terra dai raggi UV, non essendoci più l'ozono, e quindi giustamente la gente, anziché essere felice di poter vivere ancora e di non finire bruciata dal sole, si incazza per la perenne oscurità. Viene quindi contattato dall'ecoterrorista Luis, che vuole avvisarlo del pericolo che sta correndo la Terra, ma vengono interrotti dall'aggressione di altri due immortali cattivi. Quindi non era vero che ne doveva restare solo uno, ne sbucano fuori di continuo. Comunque questi aggressori sembrano due fratelli istrici e sono caratterizzati da una lingua lunga, tanto quanto una mira di merda. Il combattimento è qualcosa di veramente imbarazzante. Comunque il primo finirà decapitato da un tram che oltretutto andava pianissimo, e vi risparmio la scena, mentre di come finirà decapitato il secondo vale la pena di guardarla, perché veramente non ci sono parole per descriverne la bruttezza. Comunque l'importante è che il nostro McCloud è ridiventato immortale, ma non solo, e perfino ringiovanito magicamente davanti agli occhi increduli di Luis, e per qualche strana ragione invoca il nome del suo maestro. Incredibilmente questo si materializza in Scozia, anche se nel primo film era morto decapitato e quindi un grandissimo WTF, cosa ci fa ancora lì? E soprattutto, possibile che non abbia mai visto prima uno specchio? A questo punto McCloud deve rivelare alla ragazza di essere in realtà un alieno immortale del pianeta Zeist, e scopano lì nel vicolo, così neanche a metà delle presentazioni. E vabbè. Fra l'altro McCloud sarà pure immortale, ma a me sembra che soffra di eiaculazione precoce. Comunque in pratica la spiegazione di tutto Lambaradan è più o meno questa. Sti alieni Zeist sono mortali sul loro pianeta, ma immortali nel nostro, almeno fino a quando non hanno ucciso tutti i loro simili venuti dal loro pianeta sulla Terra. A quel punto l'ultimo rimasto guadagna come premio la mortalità, a meno che non torni sul suo pianeta, ma se qualcun altro arriva sulla Terra, allora ridiventa subito immortale. Ma a voi non sembra un gran garbuglio del cacchio privo di senso? Qualcosa del genere. Ma che ognuno se ne stesse a casa sua. E poi soprattutto, se sono alieni originari di un altro pianeta. E lo mostrano anche nelle scene iniziali del film. Per quale motivo il suo maestro si chiama Ramirez? Vi sembra un nome alieno questo? Cioè i messicani sono tutti alieni allora. Memorabile poi la scena dove Ramirez va a farsi fare un vestito più moderno per non dover più andare in giro sembrando un pagliaccio. Per non parlare poi di quando se la fa sotto sull'aereo. E pensare che Sean Connery si è incamerato ben 4 milioni di dollari per fare una piccola e ridicola parte con una manciata di battute. Durata in tutto solo 9 giorni di riprese. L'immortacci sua. Comunque bisogna fare qualcosa. Perché la Scudo Corporation, quella che gestisce lo scudo solare, in realtà tiene attivo il suddetto anche se non servirebbe più. Soltanto perché questo frutta loro miliardi. Non è ben specificato come. Mentre invece lo strato di ozono si è non si sa come né perché è riformato. E quindi togliete sto cazzo di scudo e arridate cercello azzurro. Dice l'ecoterrorista leggerissimamente zoccola che Christopher Lambert si è appena scopato in un vicolo. E lui, sempre sull'attenti e mosso più da un'altra cosa che da un vero e proprio slancio di eroismo, si prepara ad aiutarla. Nel frattempo Katana, il cattivo dittatore del pianeta Zeiss che aveva causato l'esilio di McLeod e Ramirez sulla Terra, decide anche lui di venire sul nostro pianeta per decapitare McLeod di persona, presumo. Ma non poteva farsi i cazzi suoi per un po' e aspettare che morisse di vecchiaia? No, lui manda i sicari per farlo ringiovanire e renderlo di nuovo immortale. Deve essere un demente! Quello che poi non capisco è perché si sia teleportato a mani nude e poi si è arrivato con i guanti. Comunque subito appena arrivato, spinge una metropolitana a 700 miglia all'ora e si schianta apposta uccidendone tutti i passeggeri. Così, perché è stronzo nell'animo. I due rivali si incontrano anche, ma non si affrontano perché siamo solo a un'ora di film e mancano ancora 40 minuti alla fine. Molto meglio quindi far camminare McLeod da solo in una fabbrica abbandonata per 5 minuti, prima. Poi i due si affrontano e assistiamo ad un altro duello abbastanza cringe. Un lunghissimo duello cringe, per allungare l'imbarazzo e l'agonia. E fra l'altro sulle passerelle in mezzo ai macchinari non si capisce un cazzo. Cioè le inquadrature sono tutte sbagliate. Incredibile! Alla fine McLeod si schianta con l'ascensore, ma Katana non lo finisce e se ne va. Ve l'ho già detto che... Deve essere un demente! Giusto in tempo per l'arrivo del vecchio maestro Ramirez, che si deve guadagnare i suoi 4 milioni di dollari per tre scene de merda. Nel frattempo Katana va a assumere il controllo della Scudo Corporation. Così, a caso. Cioè, ma come? È appena arrivato, che cazzone sapeva lui? Comunque bisognerebbe andare a vedere sopra lo scudo com'è la situazione. Fa niente se si rischia di uscirne leggerissimamente carbonizzati. Però prima bisogna introdursi nel carcere di massima sicurezza, dove hanno rinchiuso lo scienziato compare di McLeod nella costruzione dello scudo. Ovviamente li crivellano di brutto, ma tanto loro per ora sono ancora immortali. Trovato il compare, leggerissimamente torturato, si fanno dire la coordinata che mancava loro e anche se ne poteva fare a meno, Ramirez si sacrifica per lasciare che il suo pupillo affronti Katana nel duello finale. Cosa che puntualmente avviene sul cofano di un'auto in corsa. Perché... perché sì. McLeod e Louise però riescono a scappare e seminare il cattivo. Vanno sul tetto dello scudo per godersi un po' il panorama ed effettivamente lo zono c'è. Ma a rovinare la festa c'è ovviamente Katana, che non si sa come li ha raggiunti in un attimo ed è venuto per lo scontro finale. E boh, quando guardo Christopher Lambert e Michael Ironside duellare con le spade, mi sembrano impediti come dei bambini coi bastoni al parco. È imbarazzante. Comunque ovviamente vince McLeod e tagliata la testa di Katana, assorbe abbastanza energia da diventare scemo ed entrare nel raggio dello scudo, sacrificandosi per farlo esplodere. Ma attenzione, è ancora vivo. Ma come ha fatto a sopravvivere a una cosa del genere? Ormai non era più immortale. Aveva sconfitto Katana, che era l'ultimo, ridiventando mortale. Ma che cazzo è sta minchiata? Fine. Stendo un velo pietoso e ringrazio di un trader 86 che mi aveva regalato il DVD. Mi dispiace se il riassunto è arrivato leggerissimamente in ritardo, ma il film era finito in fondo nel marasma dei DVD. In quel periodo ne ho ricevuti tanti e stavo addirittura per dimenticarmene. E comunque adesso che l'ho visto, sinceramente avrei preferito dimenticarmene. Un saluto ovviamente anche a tutti i miei Patreons e ci vediamo alla prossima. Ciao!